Allora, in Toscana cosa accadrà adesso? Nasce il gruppo di centro democratico, nasce forte, nasce forte di un assessore regionale, di due consiglieri regionali e di tanti tanti amministratori in tutta la Toscana. E nasce per dare forza al centro-sinistra lì dove noi riteniamo ne avesse più bisogno, cioè una formazione di matrice libertaria, liberal-democratica, progressista. Che vuole rivolgersi all'elettorato moderato perché noi crediamo che il centro di Monti, sempre più chiaramente si possa definire in realtà il centro di Casini, visto che gli obiettivi che si sono dati sono davvero obiettivi di basso profilo. Cercare di ottenere l'ingovernabilità del Paese e dopo le dichiarazioni di Monti dei giorni scorsi che apre addirittura a Berlusconi, riapre anche la premiata ditta Due Forni che fu il cavallo di battaglia di Casini. Non credo che sia questo il futuro di cui ha bisogno l'Italia. Toscani pronti per arrivare in Parlamento con voi? Abbiamo una squadra davvero forte, di persone autorevoli e di grande esperienza e quindi sicuramente lavoreremo nei prossimi giorni insieme a loro per definire la miglior squadra possibile. Nomi non ce ne sono ancora? Nomi non ce ne sono ancora perché è giusto che sia così, è un lavoro che stiamo facendo in questi giorni.